Dopo Brugherio, anche Monza ha deciso di vietare il rilascio in aria dei palloncini in gomma per ragioni ecologiche e ambientali. Il capoluogo Brianzolo, il primo in tutta la Lombardia, ha infatti aderito, attraverso un'ordinanza del sindaco Paolo Pilotto, all'appello dell'associazione Plastic Free, danni in prima linea nel contrasto all'inquinamento da plastica e all'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Un'ordinanza importante che il nostro sindaco ha voluto adottare su proposta del settore ambiente del comune di Monza, ma soprattutto su iniziativa di Plastic Free, un'associazione molto importante alla quale vogliamo continuare a dare un ruolo importante all'interno della nostra amministrazione e con la quale abbiamo un patto di collaborazione. Quest'ordinanza io penso che abbia un senso fondamentale, che è quella di prevenire eventuali danni all'ambiente, chiaramente stimolare l'utilizzo di materiali alternativi. Niente di vieto dunque sull'utilizzo dei palloncini nei casi in cui siano assicurati al suolo, ma da ora la polizia locale e le guardie ecologiche volontarie potranno sanzionare chi li rilascia nell'ambiente. Si rischia una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. In totale abbiamo già 40 comuni in tutta Italia che hanno deciso di prendere questo tipo di provvedimento e per noi è importantissimo, perché il lancio dei palloncini è qualcosa a cui siamo abituati, purtroppo. È un gesto che magari facciamo con della spensieratezza senza pensare che di fatto si tratta del rilascio di rifiuti e dell'abbandono degli stessi nell'ambiente. Che si tratti di palloncini biodegradabili, compostabili, comunque i tempi di decomposizione sono lunghi e di sicuro non impediscono agli animali con cui poi il rifiuto entra in contatto inevitabilmente nella discesa a terra di, diciamo, entrarci in contatto e poi anche magari di ingerirlo, cosa che succede spessissimo alle tartarughe nelle località marine. Come mai? Perché le tartarughe sono molto ghiotte di menduse. Il palloncino sgonfio in acqua sembra una medusa e talvolta trae in inganno la tartaruga che se ne ciba rimanendo poi inevitabilmente soffocata.